Noi abbiamo fatto diverse iniziative, siamo stati anche nelle scuole a parlare di violenza insieme con Gesnova, quindi è un tema al quale siamo sensibili perché non si può rimanere assolutamente insensibile alla violenza, anche se è lontana da noi, però se succede dobbiamo assolutamente intervenire per interromperla e migliorare la qualità della vita delle persone che si rivolgono a noi. In realtà voi avete coinvolto anche tutte le sedi della provincia di Bari in questo tipo di iniziativa? Sì, noi abbiamo coinvolto tutte le sedi della città di Bari, della Federazione Nazionale Pensionate e della CIS perché laddove si presentano persone che hanno bisogno di aiuto, siano in grado di dare le informazioni necessarie per arrivare a prendere appuntamento con il centro antiviolenza. Siccome sono diffusi su tutto il territorio, invece di essere le persone che vengono da noi, siamo noi che andiamo verso le persone e questo è estremamente importante. Sono degli sportelli particolari, sportelli antiviolenza per donne over 65, perciò rivolti a 60 anni, 70 anni, 80 anni che spesso hanno subito per una vita violenza o ancora la subiscono e non hanno mai denunciato. Negli ultimi tre anni sono più di 90 i casi che abbiamo accolto e che accompagniamo di donne over 70 anni. Per noi è particolarmente importante, sono violenze spesso che si subiscono dal coniuge, ma anche, ad esempio, dai propri figli nel caso in cui sono coinvolti in circuiti di dipendenza. Inaugurato a Bari, nella sede dell'Anteas, lo sportello antiviolenza per donne over 65 in collaborazione con il Comune di Bari. L'equipe del centro antiviolenza metterà a disposizione degli sportelli operatrici specializzati nell'ascolto, nell'accoglienza e nella consulenza psicologica, legale e sociale. Nell'attività sono coinvolte anche la CIS Bari e la FNP CIS Bari. Nelle sedi CIS o anche FNP apriamo degli sportelli di ascolto in collaborazione con le FNP e l'Anteas per far sì che in tutto il territorio dell'area metropolitana di Bari, se ci sono, speriamo mai, situazioni di violenza, di difficoltà oggettiva o soggettiva, ci sia la possibilità, a partire dall'ascolto, perché l'ascolto è fondamentale, l'ascolto è l'inizio di ogni interlocuzione, ma per far sì che attraverso le nostre reti presenti su tutto il territorio possiamo collaborare col centro antiviolenza di Bari e far sì che con gli strumenti che loro mettono a disposizione, a partire dalla consulenza legale, psicologica, le case per situazioni particolari di difficoltà, ci facciamo interfaccia rispetto a queste situazioni in tutto il territorio dell'area metropolitana di Bari.